Rientrata a casa, aggredisce e minaccia il connazionale che lo ospita. È il successo stanotte a Scoglitti, un tunisino di 30 anni, dopo essere rincasato da una serata passata a bere, minaccia il compaesano che lo ospita. L'uomo, un bracciante agricolo di 37 anni, è stata la vittima di violenza e di una rapina fortunatamente mai riuscita. Colpito inizialmente a un volto con un pugno, il bracciante agricolo non riesce a difendersi, mentre il trentenne prende un bastone e lo colpisce alle gambe. Attimi di terrore quando l'ospite impugna un coltello da cuscina e lo brandisce a pochi centimetri dal volto della vittima, che, nel tentativo di pararsi, dà un fendente, ma ciò nonostante viene colpito alle braccia. Le urla si sentivano in tutto il vicinato. Dammi soldi perché devo bere una birra, altrimenti ti ammazzo. A queste parole, il trentasettenne, colto dallo spirito di sopravvivenza, si dà alla fuga. Riesce ad uscire di casa e recarsi presso la casa di alcuni vicini. Solo a quel punto riesce a chiamare la polizia per avere soccorso. L'aggressore, sentendosi in trappola, scappa di casa. Tempestivo l'arrivo delle volanti del commissariato di Vittoria a Scoglitti, le quali iniziano subito le ricerche del delinquente. Quasi subito avvistato, riesce a dileguarsi tra le campagne circostanti. La cattura effettiva è avvenuta dopo circa un'ora. Condotto presso gli uffici del commissariato di polizia di Stato di Vittoria, è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina, aggressione dall'uso delle armi e per lesioni personali, cagionate al connazionale.